Le zanzarie oscuranti sono dei particolari tipi di zanzariete che, grazie a una speciale rete, permettono di disperdere il calore proveniente dai raggi solari, mantenendo l'ambiente interno più fresco. Nonostante il nome, queste zanzarie non tolgono luce alla stanza e possiedono numerosi benefici dei quali parleremo in maniera approfondita nel corso di questo video. Vedrai come la scelta di questo particolare tipo di zanzariera possa rivelarsi molto utili sotto vari aspetti. Le zanzarie oscuranti sono anche dette zanzariete con schermatura solare, poiché proseggono una speciale rete in grado di respingere il calore del sole, mantenendo l'ambiente interno più fresco, abbassando di conseguenza l'impatto ambientale dell'abitazione dovuto all'impianto di raffrescamento classico. Queste zanzarie hanno una rete doppia, che da un lato appare come la classica rete grigia, mentre dal lato è metallizzata e in grado di disperdere il calore dei raggi solari. Da un livello puramente estetico queste zanzarie sono molto simili a quelle classiche, mentre dal punto di vista funzionale garantiscono numerosi vantaggi in più. Vediamo quali. Le zanzarie oscuranti per porte e finestre hanno molti benefici, tra cui proteggere l'abitazione dall'attacco di insetti e piccoli animali dal giardino come zanzare, mosche o lucertole. Proteggerti da sguardi indiscreti, garantendo molta privacy. La speciale rete metallizzata crea un effetto screen. La visibilità verso l'esterno non viene compromessa, garantendo una visuale al 100%. Incrementare l'efficienza energetica dell'abitazione. Accedere a numerosi incentivi fiscali e bonus zanzariere. Sharknet è l'unica zanzariera con questo tipo di rete, che la rende una schermatura solare unica, valida per le detrazioni fiscali al 50%, grazie all'eco bonus. Questo beneficio rende l'acquisto delle nuove zanzariele meno impattante da un punto di vista economico, nonché ambientale. Vuoi ricevere un preventivo? Allora vai su Sharknetofferta.it. Acquistando la tua Sharknet hai in regalo il kit di manutenzione dal valore di 71,98€ con spese di spedizione gratis. Grasset.it. Alt principi del video di